Ciao ragazzi, l'avventura di oggi è migrare un volume LVM su un altro dispositivo fisico ovvero abbiamo una SD da 64GB con partizioni Home, Route e Swap da migrare, tutto quanto in LVM, da migrare su una chiavetta da 32GB e che è un problema anche per la dimensione delle partizioni che quindi andranno shrinkate fortunatamente i volumi sono LVM e il file system è EXT4 scusatemi la registrazione a schermo proprio con la Reflex ma qui ho fatto il boot su una live di Fedora in cui ci mettevo più tempo a capire come mai non si installava FMFMPEG che a puntare una Reflex sullo schermo e quindi ho optato per questa seconda scelta quindi vediamo un attimo come si è messo ho inserito la chiavetta, cioè la SD da 64GB, LVscan e vediamo che effettivamente abbiamo 1, 2, 3, 3 partizioni LVM 5GB, 17GB, 35GB, questo va ben oltre alla capacità della chiavetta su cui andiamo a migrare quindi prima di tutto dobbiamo restringere il file system per fare ciò cominciamo con smontare eventuali partizioni che fossero montate diamo il comando mount per cercare se c'è qualcosa di montato e ad occhio direi di no basta fare anche mount, che so, grep Fedora prossima cosa che andiamo a fare è controllare tutte le partizioni che non presentino problemi quindi E2FSCK, dev Fedora home tutto a posto dev Fedora root questa magari è un po' più grande, contiene più cose ma comunque tutto a posto ok ora è il momento di restringere le partizioni quindi resize 2FS partition dev Fedora root partizione di root facciamo che gli diamo 15GB considerando che il sistema sarà complessivamente di 32GB direi 15GB per la partizione di root e qui sta facendo lo shrinking ovvero il restringimento della partizione fra l'altro vi ricordo che non è una cosa che tutti i file system supportano infatti per questo X4 è fantastico mentre XFS per esempio che è però la scelta predefinita di 100 se redat non supporta lo shrinking ma soltanto l'allargamento delle partizioni non il restringimento e qui abbiamo restrinto il file system adesso con lv reduce diciamo meno L maiuscola ah già layout tastiera americana tutte le volte mi scordo gli diamo la stessa dimensione anche qui 15GB al dev Fedora root in questo modo andiamo a restringere il logical volume perché il file system che si trova sul logical volume l'abbiamo già restrinto perfetto ok adesso restringiamo il logical volume ovvero quel numerino che vediamo qua ok stai restringendo il logical volume potresti distruggere dei dati sei sicuro di voler continuare? certo continuiamo siamo sicuri che non stiamo distruggendo dei dati perché abbiamo già restrinto la partizione ok è cambiata la partizione da 35,51 giga a 15 giga quindi se do di nuovo lvscan posso vedere che la partizione di root è stata ridotta a 15 giga faccio lo stesso identico passaggio anche per la partizione di home che gli do 10 gigabyte la dimensione minima della partizione che mi ha accettato sono stati 12 giga si vede che c'erano dei dati nella home per un totale di 12 giga ok vedremo di farci stare tutto quanto lo stesso riduciamo il logical volume anche per la partizione di home sì siamo sicuri ok lvscan e ok adesso prima di continuare lanciamo nuovamente una scansione degli errori del file system vogliamo essere sicuri che nessun dato vada perso e che non si corrompa il file system controlliamo la root intanto tutto ok controlliamo la home ok sembra che vada tutto bene proseguiamo per la partizione di swap è un po' differente nel senso che non ci sono dati persistenti o cose del genere di cui dobbiamo preoccuparci quindi facciamo direttamente lv reduce meno l la nuova dimensione della partizione 4,5 giga in questo caso perché mi voglio tenere un pelo sotto i 32 giga ok vuoi ridurre yes e a questo punto di nuovo controlliamo con lvscan make swap a dev fedor swap voilà così ricrea la partizione di swap nel caso fosse stata danneggiata probabilmente eccetera eccetera ok quindi ora do il comando di physical volumes per mostrare cosa è usato e che cosa no e vediamo che dev sdb3 volume fisico ha una dimensione di 58,79 giga e liberi ce ne sono 27,29 usati 31,50 ora pensaci bene 64 gigabyte erano 58,79 effettivi 32 giga probabilmente saranno 28 o qualcosa del genere quindi probabilmente sono stato ancora un po' troppo largo con le partizioni comunque lo vediamo tra un po' quindi collego la chiavetta su cui voglio migrare il tutto che in realtà poteva già essere collegato da prima non era assolutamente rilevante comunque diamo un parted meno l e vediamo eccola qua sandisk ultra fit dev sdd questo è il nome della unità su cui vogliamo migrare quindi prima di tutto distruggiamo il contenuto di dev sdd parted dev sdd make label gpt continuare yes assolutamente sì e qui stavo facendo un errore perché ero in procinto di creare una partizione ext4 per contenere il volume lvm ma prima di fare questo avrei dovuto creare una partizione di hfs plus efi per il mac e una partizione ext4 di boot per contenere grab perché grab non può stare su un volume lvm ora la guida è corretta l'unica cosa è che non avendo creato le prime due partizioni che mi servono per il boot questo sistema al termine della migrazione non farà il boot quindi nel caso stiate come me trasferendo un sistema operativo completo con file di boot e tutto quanto dovete ricordarvi prima di ricopiare esattamente lo schema di partizioni che c'è sul disco sorgente ma è banale questo non ha nulla a che vedere con lvm avrei comunque avuto bisogno di copiare le partizioni di boot a prescindere che il volume fosse lvm o no la regola generale indipendentemente da tutto è sempre comunque di copiare lo stesso identico schema di partizioni da un disco a un altro quindi ora nel video creo una singola partizione ext4 che occupa il 100% del disco voi no voi non fate così create le stesse partizioni presenti sul disco sorgente e con strumenti come dd ad esempio copiate il contenuto di s all'interno delle partizioni appena create sul disco di destinazione eccetto chiaramente per la partizione che contiene volume lvm quella la create vuota e poi dopo la migriamo con il sistema che segue nel video quella non la clonate con dd ok make part partition name lvm file system type ext4 dall'inizio dallo 0% al 100% ok toggle partition number 1 lvm assolutamente inserito ok quit creiamo il physical volume pv create dev sdd1 certo non so perché fosse in vfet assolutamente wipe ok quindi se ora ridò il comando dei physical volumes posso vedere che sdd1 è stato aggiunto a quelli disponibili free 28 giga ok quindi siamo messi ancora peggio ho 28 giga disponibili ok molto bene ecco tanto per la gioia della swap l'ho ridotta ulteriormente a 1 giga e mezzo che è praticamente pochissimo ma non fa niente perché non volevo assolutamente sacrificare altro spazio sulle altre partizioni così ora siamo sicuri di starci dentro il prossimo passaggio è quello di aggiungere dev sdd1 al volume group fedora quindi vg extend fedora dev sdd1 volume group fedora su sexually extended ok quindi se ora torno a dare il comando pvs vediamo che fanno entrambi parti del volume group fedora questo è molto buono però nel secondo caso nel secondo disco sdd1 non è utilizzato per nulla al momento l'ultimo passaggio è quello di pvmove pvmove dev sdb3 su dev sdd1 in questo modo spostiamo tutto il contenuto di sdb3 all'interno di sdb1 siamo già nel volume group corretto quindi al termine di questo dovrebbero invertirsi queste due cose al termine di questa operazione potremo finalmente rimuovere dev sdb3 dal volume group spostamento completato ha impiegato 1 ora e 20 andiamo a vedere se effettivamente è esatto proprio come volevo dev sdd1 contiene tutti i dati mentre dev sdb3 adesso è utilizzato 0 quindi è completamente vuoto quindi siamo pronti per rimuovere il volume vg reduce nome del volume group fedora e dispositivo fisico dev sdb3 rimosso andiamo a vedere è sempre un volume lvm però non fa più parte del volume group fedora lv scan voilà 1,50 gigabyte di swap 12 gigabyte di home e 15 gigabyte di root ok molto bene molto bene adesso posso fare un reboot e la migrazione è completata grazie a tutti